Luna Park Fratelli Pietati. La sanificazione delle nostre giostre. Sanificare le giostre del nostro Luna Park, per noi, non è solo un dovere. È la garanzia per la sicurezza del nostro bene più prezioso, le persone. In particolar modo quello dei più giovani, quello dei nostri e dei vostri figli. Il Luna Park Fratelli Pietati. È divertimento in sicurezza, da quattro generazioni. Luna Park Fratelli Pietati. Divertimento in sicurezza, da quattro generazioni. Luna Park Fratelli Pietati.